Da lunedì prossimo Polizia Carabinieri e Guardia di Finanza di 18 città italiane avranno in dotazione circa 4.500 taser, l'arma ad impulsi elettrici. La sperimentazione parte nelle 14 città metropolitane e nei capoluoghi di provincia di Caserta, Brindisi, Reggio Emilia e Padova. Un passo importante per ridurre i rischi per l'incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio, ha spiegato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.